Bene, abbiamo visto in uno dei video precedenti questa immagine in cui vengono esposti le varie parti che compongono questo model box e abbiamo anche visto come siano da considerare come diversi livelli. Quindi noi abbiamo trattato il contenuto che è quello più centrale in cui di solito si trova il testo che ha come parametri principali l'altezza, la larghezza ma anche il colore. Poi dopo viene il padding andando verso l'esterno ma il padding lo vedremo probabilmente nel prossimo video perché è meglio prima trattare il bordo. Il bordo è abbastanza intuitivo e semplice da comprendere e poi una volta che l'abbiamo compreso il padding insomma diventa molto più facile da capire. Bene, quindi torniamo su VS Code, quello che abbiamo fatto nella lezione precedente. Per andare avanti è meglio che io abbia questi box tutti delle stesse dimensioni, poi vedrete perché per notare qualche differenza. Quindi vado a togliere tutte le informazioni nei vari box che li cambiano larghezza, l'altezza, in questo modo e così facendo se salvo diventano tutti uguali perché prendono le dimensioni dal div, siccome sono all'interno di un div, ogni div ha queste dimensioni. Ora sulla pagina di mdn di border vediamo che le caratteristiche principali di un bordo sono il colore, lo stile e lo spessore. Quindi border color, colore, border style e border width che è lo spessore. Border width, vedete, può essere descritto con una parola, con unità di misura, ma di solito si usano i pixels, io preferisco usare i pixels perché il bordo, diversamente dagli altri oggetti che compongono una pagina, è quella cosa che vogliamo che sia costante. Non abbiamo interesse quando visualizziamo una pagina su un device piuttosto che su di un altro o quando andiamo a allargare la pagina che il bordo diventi più spesso. Magari il testo sì, ma non il bordo. Il bordo ci interessa anche per motivi estetici che sia sempre uguale, quindi di solito si usano i pixels per indicare lo spessore del bordo. Un'altra proprietà è quella dello stile. Lo stile può essere diversi tipi, poi li scoprirete. Quello più utilizzato è quello pieno, quindi solid, qui lui non lo mette. Comunque se scrivete solid è semplicemente un bordo che poi ha un colore e una spessore che andiamo a determinare nelle altre caratteristiche. Mentre il border color, come potete intuire, dà il colore al bordo, che può essere descritto come negli altri esempi, solo con una parola o col codice che determina quel colore. Ok? Quindi andiamo su VS Code e creiamo il nostro primo bordo. Scrivo border color e gli do per esempio black, però vedete se salvo non appare il bordo. Ora andiamo avanti e poi vi spiego perché non appare. Border width, lo spessore, per esempio 5 pixels. Ancora salvo e non appare. Invece adesso, dandogli lo stile, border style, solid, se salvo vedete che il nostro bordo appare. Appare solo adesso perché border style è l'unica proprietà che ha bisogno di essere descritta, se no va di default su none, quindi non dà nessuno stile e quindi non appare. Mentre le altre di default hanno un colore e uno spessore. Ora, di solito non si usa questo modo, a meno che non vogliamo semplicemente cambiare lo stile e non gli altri parametri, ma se diamo un bordo di solito usiamo semplicemente la proprietà border, ok? Quindi si chiama solo border e poi in ordine diamo le caratteristiche width, style e color, esattamente in questo ordine. Se ve ne dimenticate sulla pagina di mdn lo trovate, quindi qui vedete border, width, style e color. Possiamo anche dare semplicemente width e style o style e color, ma l'importante è che seguano questo ordine, se no il browser si confonde. Quindi diamo width, style e color, per esempio volendo farlo identico a quello sopra, dobbiamo dare border width 5 pixels, quindi scriviamo 5 pixels. Poi lasciamo uno spazio, style solid e color black, in questo modo. Infatti se salviamo vedete che appare anche qui. Quindi questa notazione più breve è quella che si usa di solito e questo capita spesso, questo fatto di avere una notazione abbreviata. Quindi invece di prendere tre righe ne prende una sola e capiterà con molte proprietà più avanti ed è una cosa comune questa al CSS. Vedete che spunta qui il bordo, è diventato più grande. Vedete cosa è successo? È successo che il contenuto è sempre di 200x200, però il bordo, essendo di 5 pixels, va ad aggiungere 5 più 5 è 10 pixels. Quindi questo gradino qui sarà di 10 pixels. Infatti se noi ispezioniamo, andiamo sull'elemento, vedete che qui, adesso io non riesco ad andarci sopra con il mouse, però vedete questo box sotto al puntatore del mio mouse? Lì mi dice div box 1 210x210, ok? Perché il blocco, il tutto è 210, non è più 200. Mentre questo, vedete, è 200x200. Questo si può cambiare, c'è una proprietà che si chiama box sizing, a cui poi diamo il valore di border box e dando quella facciamolo. Vedete, se io qua scrivo box sizing e gli dico di essere border box, lui cambia caratteristiche. Se salvo, vedete il secondo div mi è diventato di 200x200, come viene descritto da questo selettore div, contenendo tutto, quindi il contenuto, poi il bordo, poi l'eventuale padding che andremo a vedere, eccetera. Quindi questo div si comporta come border box, mentre gli altri no. Si usa spesso questo, ma si usano entrambi, dipende dal modo in cui si lavora. Ad ogni modo, andiamo a vedere un altro esempio qui sul terzo, anche qui border, e gli diamo per esempio 10 pixels, lo facciamo più spesso, dotted, quindi a puntini, e poi lo facciamo, che ne so, magenta. Se salviamo, vedete questo si è ingrandito perché non ha la proprietà border box di box sizing, e sarà diventato di 220, perché 10 più 10 fa 220, in questo modo, vedete, e è assunto quel bordo. Ok, un'altra proprietà del bordo molto utilizzata, perché infatti i bordi spesso sono in questo modo, ma molto più spesso sono leggermente arrotondati o molto arrotondati, quindi per far ciò si usa la proprietà border radius, in questo modo. Se io scrivo border radius, e poi gli do o un valore in pixels, o un valore in percentuale, ma io preferisco usare i pixels, scusate, la percentuale, per esempio 20%, e salvo, lui mi arrotonda, vedete, i bordi di questa scatola, questa magari di questo box, questo magari è troppo, che ne so, posso fare 10%. Mi arrotonda, in percentuale, quindi, perché, per scusare la percentuale, perché, per praticità, usando la percentuale non importa quanto sia grosso questo box, nel nostro caso di 200x200, l'effetto è sempre lo stesso, perché va in percentuale alle dimensioni della scatola, mentre se io lo scrivo in pixels, l'arrotondamento va a dipendere da quanto è più o meno grande la scatola. Se io qui metto 50%, che è il massimo, ottengo un cerchio, ok? Ora, vedete che il testo non è più centrato, perché? Perché, come dicevo nel video precedente, o due video fa, ogni cosa è un rettangolo, ok? Quindi, anche questo è un rettangolo, viene visualizzato come cerchio. Io il rettangolo non lo vedo, in questo caso lo vedo perché me lo fa vedere Chrome, con diversi colori, vedete l'azzurrino, come c'è qui, sotto qui, e a destra, dove è il puntatore del mouse, e quello del contenuto. Poi c'è il bordo, che è questo giallino qui, border, vedete, me lo identifica in quel modo. Poi è arrotondato, perché viene arrotondato poi dal border radius. Quindi, poi vedremo come andare a centrare bene il testo, utilizzando il padding, per esempio. Ma per adesso resta così. Quindi, in questo modo, si modifica il raggio. Per esempio, box 2, border radius, 3%. Anche qui, leggermente arrotondato, vedete. Poi, sulla pagina di MDN, di border radius, vedete, infatti, un esempio. E poi vedete come, anche qui, utilizzando la notazione più breve, si possono modificare alcuni angoli in modo diverso dagli altri. Qui, quindi, questo angolo e questo angolo hanno il 25% di curvatura, mentre questi due è il 10%. Quindi, questa va a sostituire questo tipo di notazione. Border top left radius, border top right radius. Quindi, in cui noi andiamo a indirizzare la proprietà a un determinato spigolo piuttosto che all'altro. In questo modo, per esempio, qui, vabbè, non capita spesso di fare dei box con questi angoli, però può capitare. Qui, ogni angolo, partendo da quello in alto a sinistra, andando in senso orario, avrà il 10%, questo, il 30%, eccetera, eccetera. Questa cosa di andare in senso orario la troveremo anche in altre cose. Anche nel border stesso, se io voglio dare diversi stili ai diversi lati del bordo, ad esempio, questo qui è dotted su quattro lati, ok? E io qui, il fatto che sia dotted, l'ho dato all'interno della proprietà border. Però, se io dopo scrivo border style, border style, e gli dico solid, e poi dotted, lui cosa farà? Me lo fa sopra e sotto solid, a destra e a sinistra dotted. Perché? Perché quando ho solo due parametri, il primo parametro indica quello di sopra e quello di sotto. Il secondo parametro indica il destro e il sinistro. Se invece ne metto quattro, ok? Se per esempio metto solid, 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 e dotted, in senso orario, lui andrà a farmi, partendo dall'alto, solid, 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 e dotted. Infatti, se salvo, vedete, l'unico dotted è questo qua, l'ultimo, ok? Perché va sempre in senso orario, partendo dall'alto. Lo stesso con, col border radius, uguale. Ok, bene. Quindi, nel prossimo video andremo a parlare del padding, e cominceremo a, a vedere tutto un po' più bello. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!